Su Radio ISAV c'è Io e te, a cura del professor Santilli. E come un orologio svizzero iniziamo un'altra puntata di Io e te insieme al nostro prof Marco Santilli. Marco buongiorno. Buongiorno carissimo Luca. Oh che bello rivederti, che bello risentirti Marco. Anche per me, meraviglioso oggi. Allora oggi Marco toccheremo un argomento veramente molto molto importante, dire attuale e dire poco. Marco, allora ieri abbiamo parlato di app di messaggistica, di come sono nate le app di messaggistica con l'avvento di internet. Si siamo addentrati nell'argomento e abbiamo anche visto quanto tempo effettivamente noi esseri umani in media passiamo davanti al cellulare nella nostra vita. Pensa Marco che nove anni della nostra vita li passiamo guardando lo schermo del nostro telefono. Sono veramente tanti, sono numeri che dovrebbero farci riflettere. Si è incredibile, dunque il discorso è vastissimo, ma noi oggi non abbiamo tutto il tempo del mondo. Però diciamo diamo degli accendi. Guarda ti riporto un po' di studi che si stanno facendo. Perché? Perché il cellulare ha invaso praticamente la vita di tutti noi. Ora tutti noi, non iniziamo a dire i giovani o non giovani, tanto è vero che le ricerche dicono che l'uso del cellulare, la quantità d'uso del cellulare è maggiore negli adulti che non negli adolescenti. Quindi come vedi insomma l'esempio che gli adulti danno agli adolescenti è fatale, nel senso che spesso gli adolescenti ci guardano e ci imitano. Ma non è tanto questo perché poi loro sono nati in modo digitale, i nativi digitali, quindi per loro comunicare è usare il cellulare, è la messaggistica, sono i social. Ma il problema è innanzitutto quante energie ci consumano in termini di tempo. E questo è molto 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 rilevante. E quanto soprattutto il nostro livello di attenzione, il nostro livello di energia da usare per altro viene consumato. E questo è un argomento mondiale. La prima cosa che voglio dirti è, guarda, me ne occupo da tempo perché gli adolescenti spesso che vedo hanno una vera e propria dipendenza. E questa dipendenza è molto negativa dal punto di vista sia delle relazioni sociali, perché il ragazzo preferisce addirittura relazionale in modo virtuale che non reale. Ma questo perché si nasconde un po' dietro lo schermo. Dietro lo schermo può dire, può fare, può essere chi desidera. Le insicurezze chiaramente vengono mascherate e quindi questo diventa, come dire, un'area comfort che aiuta, ma nello stesso tempo, priva della crescita e della maturità, il ragazzo. E quindi è molto complesso riuscire a evadere, no? Questo ragazzo da una dipendenza è molto molto complicato. Per esempio ti faccio un esempio per capire quanto si è dipendenti. Qualche volta noi, o chi lo fa, prende il cellulare in mano anche se il cellulare non ha mai squillato o non ha mai inviato un suono, bip, che dice che è arrivato un messaggio. Questo gesto è un gesto che denota una dipendenza, come se il nostro cervello in effetti chiedesse al cellulare squilla, squilla, ho bisogno di te, ho bisogno di te e vai a vedere se questo tuo bisogno viene realizzato, è stato realizzato. In verità poi sul cellulare non c'è nulla, non è arrivato nulla. Ecco, questa occasione, se qualcuno dei radioascoltatori sta ascoltando ed è dentro questo mondo, deve essere attento perché è un segnale di dipendenza piuttosto serio. E immagina qualche volta che sarà accaduto a tutti. Ma sicuramente. Sai, va a cogliere i centri del piacere e quindi dando piacere, ogni volta che noi abbiamo il cellulare in mano questo piacere viene rinforzato e rinforzando il piacere stesso non ne usciamo più. da questo uso continuo del cellulare. È molto preoccupante. Tanto è vero che, ti do delle ultimissime notizie per i radioascoltatori, ci sono centri di ricerca nel mondo. Io me ne occupo perché i ragazzi che hanno disturbi dell'attenzione, per esempio, o disturbi del linguaggio, disturbi delle relazioni, della comunicazione, dell'empatia, spesso sono chiusi all'interno di un mondo digitale e quindi uscendone fuori risentono di una debolezza che invece di migliorare con la crescita si ferma lì ad uno stadio che spesso diventa fisso e patologico. Quindi diamo dei consigli. La prima cosa che dovremmo fare un po' tutti è al mattino. Prima di parlare della sera, parliamo del mattino. Allora, il mattino non dovremmo immediatamente prendere il cellulare in mano. Questa è una delle regole che piano piano nel mondo verranno acquisite, cioè ci alziamo, facciamo colazione, semmai parliamo con chi c'è intorno, che sarebbe e dovrebbe essere l'ideale. parlare, dire buongiorno, come stai o cosa farai, fare colazione e tutti i gesti rituali di una mattina. Passata un'ora, un'ora e mezza, dovremmo iniziare a vedere semmai il cellulare, perché ormai, diciamo, ci si lavora anche con il cellulare, ci si comunica per relazioni di lavoro in gran parte. Questo già, come dire, allontana dalla nostra giornata questa invasione terribile nella nostra vita e nel nostro tempo di un mondo, di un oggetto che ci domina. Ecco, noi non possiamo essere dominati in questo modo, quindi la prima ora, un'ora e mezza, deve essere gestita da noi, senza cellulare. Questa sarebbe una cosa bella, perché se i ragazzi volessero abituarsi, queste regole poi piano piano verranno date, veramente ne troverebbero un gangiovamento. Assolutamente sì, Marco. No, l'unica cosa che voglio dirti sempre su questo, sul telefono alla mattina, il problema se qual è, Marco, che tutti noi abbiamo la sveglia al cellulare e mettiamo la sveglia al cellulare. Quindi la prima cosa che facciamo è interrompere la sveglia. Nell'interrompere la sveglia prendiamo il telefono. Si dovrebbe un pochettino tornare al passato con quelle sveglie manuali. Allora, è bellissimo questo che hai detto, ed è la realtà. Hai fatto proprio il quadro, la fotografia, alla realtà. Noi mettiamo sveglia, la sveglia suona, noi prendiamo il cellulare e noi andiamo immediatamente su Whatsapp, sui social. Sì, allora dobbiamo iniziare a mentalizzare, a dire, io ho bisogno di un'ora, un'ora e mezza di distacco da un mondo che in qualche modo mi domina. Noi se mentalizziamo ci rendiamo conto di questo. E rendendoci conto di questo possiamo, per esempio, chiedere a una compagna, alla madre, al fratello, non so, a chi vicino è la mattina, di dire, svegliami, svegliami tu. Come è stato sempre. Oppure alzare, non so, sai, fare entrare luce, eccetera, eccetera. Adesso ci sono mille modi alternative, come ci sono sempre stati. E questa è un'ottima idea. Poi si arriva alla sera. Oh, la sera, qui veramente c'è un po' da dire. Il cellulare è un generatore di disturbi del sonno incredibile. Di sarei gravissimo. E si sa che i disturbi del sonno sono soprattutto nella fase di sviluppo cruciale. Cioè, sono molto pericolosi perché si altera l'umore del ragazzo durante la giornata. Le funzioni tipo apprendimento, memoria, attenzione, vengono colpite, vengono ridotte, vengono abbassate dal sonno che non è stato rigeneratore di sistema neuronale. E questo è molto, molto pericoloso. Va bene una notte, ma non un sistema di vita. E questo veramente altera anche lo stato d'animo di un ragazzo. Addirittura crea momenti depressivi di disturbi dell'umore. Quindi, ma, queste sono cose accertate. Quindi, cosa si potrebbe fare? Cosa si sta studiando? Anche qui, una sorta di atteggiamento comportamentale, no? Prendiamo il cellulare, non so, supponiamo di andare a letto a mezzanotte, intorno alle 11, 10 e 30, quindi un'ora, un'ora e mezza prima, noi lo possiamo, lo spegniamo. Lo spegniamo e ci godiamo quest'ora, leggendo, parlando, bevendo una tisana. Ci proponiamo ad un sonno che ci accoglie, che ci avvolge. e quindi noi possiamo entrare in una fase profonda di sonno, mentre il cellulare che portiamo a letto e che guardiamo mentre cerchiamo di dormire ritarda inevitabilmente il sonno e lo disturba perché poi durante il sonno queste onde, questo schermo blu è penetrato in noi, no? Ed è nel nostro sistema, è qui nel nostro circuito vivente e non ci tiene in una situazione di REM che si predispone al REM ma ci tiene piuttosto in allerta. Quindi l'uso del cellulare ad un certo punto prima del sonno deve essere e sarà perché queste regole ormai gli scienziati, gli studiosi le stanno mettendo a punto, alcuni paesi le applicano già, insomma, educano già le persone a questo mondo perché in qualche modo ci dovremmo difendere, non è che elimineremo il cellulare, anzi, arriverà l'ipertecnologia, il metaverso, quindi arriverà veramente un mondo digitale e dobbiamo in qualche modo difenderci, o meglio, cercare di salvaguardare il nostro Humanitas in senso generale, non possiamo essere travolti come purtroppo accade, pensiamo al fenomeno di Kikimori, abbiamo fatto una puntata illo tempore e noi praticamente siamo soggetti sotto questa, avvolti in questa campana maledettissima di questa patologia e una bolla dove noi viviamo dentro casa in 150 metri quadri praticamente senza uscire mai più pensando che quella sia la nostra vita, liberamente siamo in azione finale di un processo che però pian piano potrebbe cogliere tutti, quindi bisogna essere molto 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 attenti, non so se hai letto ultimamente le ricerche scientifiche hanno studiato gli studiosi della posturologia, della postura eccetera, hanno studiato e hanno fotografato come saremo tra mille anni, si hai letto, saremo tutti ingombiti con le dita sottili, rattrappite sottili per digitare, quindi addirittura il nostro corpo si sarà adeguato ad uno strumento, quindi insomma veramente dobbiamo prenderne un po' le distanze. Marco su questo ti interrompo un attimo perché ti dico abbiamo fatto anche il sondaggio nella giornata di ieri penso un po', abbiamo chiesto se i nostri ascoltatori se effettivamente credono che diventeremo così e ovviamente per il 67% di loro ha vinto il sì, quindi perché c'è una consapevolezza comunque, da un lato preoccupa come dire siamo consapevoli ma non riusciamo a fare nulla, dall'altro in qualche modo mi viene da dire che potrebbe essere una luce nella nostra mente come dire ne siamo consapevoli mentalizziamo questa situazione e facciamo qualcosa bisogna chiedersi se si ha un progetto se abbiamo un progetto un progetto che mettiamo in atto ha bisogno di energia un progetto della nostra vita quindi un progetto vitale esistenziale non può essere consumato dall'uso neurotico di un cellulare andando continuamente su social inutili su TikTok su questioni che poi fanno perdere solo tempo non lasciano nulla di profondo nella emotività di una persona quindi abbiamo un progetto chiediamocelo se abbiamo un progetto evitiamo il più possibile di perdere tempo quali sono i nostri interessi abbiamo nuovi interessi è possibile che non abbiamo mai nuovi interessi siamo sempre lì fermi a sostituire l'idea di nuovi interessi con l'uso del cellulare è come un riempitivo di un vuoto questo dobbiamo mentalizzarlo e dire no non va così oppure sperimentiamo un nuovo hobby abbiamo voglia di qualcosa abbiamo voglia improvvisamente di dipingere di suonare la chitarra abbiamo voglia improvvisamente di correre di entrare in un gruppo di running cioè abbiamo delle voglie o dobbiamo perderci dietro uno strumento fermi lì su un divano per ore perché in quel momento vorremmo fare ma siamo come incatenati e in catena da questo strumento questo è veramente grave lo dico soprattutto ai giovani quindi usare il tempo delle pause anche per annoiarsi se vuoi ma trovare provare sempre a navigare in modo virtuale invece di navigare nella realtà della vita potrebbe essere veramente pericolosissimo e lo è infatti lo è è anche deprimente se vuoi perché non sperimentiamo mai la nostra fatica la nostra sconfitta la nostra vittoria che sono sempre come dire dimensioni reali da vivere non viviamo queste dimensioni così profonde per il nostro sé per la crescita della nostra identità in modo virtuale la nostra identità cresce in un modo reale nella realtà e quindi il cellulare deve essere visto come qualcosa che aiuta la nostra crescita e non che frene di impedirsi la nostra crescita la nostra crescita umana e mentale anche della conoscenza sì Marco sei stato dire chiaro e dir poco soprattutto un'altra cosa importante è che l'argomento di oggi è attualissimo riguarda tutti noi nessuno escluso anziani adulti bambini adolescenti qualsiasi fascia d'età racchiude quello che abbiamo quello di cui hai parlato oggi e che è approfondito anche in un modo devo dire perfetto il riposo è la cosa fondamentale della nostra vita cioè se noi non riposiamo viviamo male la giornata e quindi buttiamo praticamente le giornate e già questi piccoli consigli queste piccole pillole che hai dato al mattino e alla sera possono essere veramente fondamentali per tutti noi quindi Marco io ti ringrazio un'altra volta e ci diamo appuntamento come al solito a giovedì prossimo sempre qui su Radio Isav grazie Luca sempre alle 12.10 sempre con il prof Marco Santilli Marco grazie grazie a te su Radio Isav c'è io e te a cura del professor Santilli